Venerdì 18 ottobre al Santuario del Beato Sante di Monbaroccio, alla presenza dei Vescovi di Pesaro, Urbino, Urbagna, Sant'Angelo in Vado, Monsignor Sandro Salvucci e di Fano Fossombrone Caglipergola, Monsignor Andrea Andreozzi, si è svolta la serata missionaria di Metropolia dal titolo Un banchetto per tutte le genti. Un momento di preghiera, riflessione e conoscenza della dimensione missionaria della Chiesa grazie alla presenza dei centri missionari e di alcuni stand di associazioni ONG del territorio impegnate nella promozione umana in terre geograficamente lontane. La serata è iniziata con la Santa Messa preseduta dai due Vescovi per poi proseguire con la cena condivisa e con l'apertura degli stand missionari. Durante la veglia si sono alternati momenti di preghiera, ascolto della parola di Dio e del Papa, testimonianze missionarie dei volontari del gruppo di Sasso Corvaro attivo in Etiopia e la riflessione di Monsignor Salvucci. Siamo tutti missionari, ha esordito il Vescovo, tutti invitati al banchetto del re, buoni e cattivi insieme. Di fronte a questo invito c'è chi lo rifiuta e chi invece viene chiamato nella condizione in cui si trova. A tutti però è chiesto di indossare l'abito nuziale che riceviamo per grazia, ovvero l'amore del padre, solo così potremmo entrare alla festa. L'amore di Dio, ha concluso il Vescovo, è gratuito e ci viene donato, ci riveste di una nuova dignità quella dei figli di Dio. Chi non indossa l'abito, chi non si lascia toccare il cuore. Queste figure del Vangelo parlano di noi e ci invitano ad un cambiamento, ad una conversione. La veglia si è poi conclusa con il mandato missionario e con lo spezzare il pane, segno di profonda comunione e accoglienza verso il mondo intero.